Tre italiani al secondo turno, ma tra questi non c'è il favorito principale per la vittoria finale del Challenger Castel del Monte di Andria. Stefano Travaglia, testa di serie numero uno del tabellone, saluta la compagnia al primo turno, sconfitto al terzo set da uno dei tre italiani, Andrea Basso, che sono approdati agli ottavi di questa quinta edizione in corso di svolgimento sul veloce del Palasport di Viale Germani e su quello allestito nel palazzetto di Via delle Querce. La sconfitta di Travaglia, fatale per lui il tie break del terzo set, conferma l'elevato tasso di difficoltà del torneo, vetrina importante per i giovani azzurri, tutti seguiti con attenzione dal tecnico federale Umberto Rianna. Il settore tecnico della federazione ovviamente è presente con Umberto Rianna e questo è anche di supporto all'attività dei giovani. Per il momento un bilancio al 50%, però credo che poi nei prossimi giorni si vedrà chi effettivamente potrà essere, almeno degli italiani, in grado di poter andare avanti in un torneo del genere, ma anche nel circuito internazionale. Chi non ha deluso le attese invece è stato Andrea Pellegrino, una sorta di enfant du pays, lui che è bicegliese. Il successo con un doppio 6-4 nei confronti del tedesco Robin Kern conferma l'ottimo momento di Pellegrino, in coda ad una stagione già ricca di soddisfazioni ed impreziosita dalla partecipazione alle finali della Next Gen italiana due settimane fa a Milano. Pellegrino completa il tris di italiani al secondo turno per adesso insieme a Basso e Sonego. A loro il compito di contrastare l'avanzata straniera in questa quinta edizione del Challenger andriese, che, perso Travaglia, potrebbe aprire la strada ad un bis nell'Albodoro per il lituano Beranchis.